Ripartiamo dal nuovo format che ho scelto, quindi le domande scomode sul mio account Instagram. Eccolo qua, abbiamo anche l'ospite quest'oggi, perché siccome mi ha fatto una domanda, allora ho detto, sai cosa? Vieni in ufficio, vieni a discutere insieme, vieni a leggere magari le domande. All'inizio mi ero spaventato, devo ammetterlo, perché ho detto, chissà che cosa mi vorrà dire. Mi hai fatto una domanda scomoda, mi hai offeso dentro e quindi ho detto, devi venire, eccoci qua. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete farmi delle domande, questo è il mio account Instagram, oppure potete farle anche qua sotto nel box dei commenti, risponderò in un video dedicato. Come sempre, ho scelto un video a settimana che comunque ci può stare. Allora, partiamo alla tua? Lasciamo per ultimo, non lo so, scegli te. Facciamolo un pochino più avanti, cerchiamo di sciogliere. Guerzo, non è proprio una domanda la mia, non riesco a capire come si acquista da Banggood. Ecco, questa è una domanda un po' complessa. Acquistare da Banggood teoricamente è semplice, perché devi selezionare l'oggetto, mettere nel carrello, una volta nel carrello, avere i soldi, quello è fondamentale, check out e poi niente, devi praticamente pagare con paypal o con una carta di credito e scegliere, credo sia priority line la spedizione da consigliata, però ti ripeto, non collaboro a Banggood, magari riscrivimi su Instagram proprio il problema che hai, perché così è troppo generica come cosa. Andiamo alla seconda. Secondo te arriverà l'aggiornamento per P8 Lite 2017? Questa domanda scomodissima, credo non di Android 10, se intendi ovviamente quel tipo di aggiornamento, però secondo me no. Poi magari Huawei mi smentisce come solito e ti tira fuori l'update, però non ho news su questo discorso. Questo mi sa che si è dimenticato un pezzo, perché notizie del Mi Watch? Mi Watch quale? Ah, è vero? No, ha ragione lui, no, Mi Watch è giusto, non ho notizie, nel senso ancora è fermo lì, lingua inglese. Non c'è un Mi Watch Color o quell'altro che ha unboxato? Sì, però io penso lui intende il Mi Watch normale, quello Android Wear, eccetera, eccetera, è sempre fermo, non c'è update, al momento è sempre la stessa identica situazione. Quando arriverà in lingua italiana farò un video sul canale, non ti preoccupare. Questo è un tasto dolente, che mi dici dell'albetro Pasqua? No, ci siamo perduti, cambia argomento, si parla di calcio ragazzi, basta, cioè dopo, ma sono aperti i gruppi Facebook, devi morire, cioè è una roba allucinante ragazzi, no, basta. Ma tutto per colpa del calcio? Sì, 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 no. Della Juve, la partita, ci siamo perduti. Ma perché tanto hanno rubato? Sì, sì, scherzo, scherzo. Ti dico, vabbè, hanno vinto 3 a 0, quindi che ti dici alla fine? Ma che palle, ma paghiamo d'altro. Perché si dice tanto che la MIUI è veloce e ottimizzata quando in realtà tiene la CPU sempre a palo? Eh, domanda, questa domanda è interessante, perché, cioè, ottimizzata, allora, partiamo dal fatto che comunque sia rispetto magari a tante interfacce come la Samsung, noi ne parlavamo proprio nel video dell'A71, è un'interfaccia abbastanza ferma, ad esempio la One UI, molto pesante, invece la MIUI, la sua transizione è molto più veloce, almeno secondo me. Poi, come sempre, bisogna vedere anche come lo smartphone lavora con la CPU satura e io, ad esempio, con il Mi 9T Pro, il Mi Note 10, io problemi non ne ho. Ora non sono stato a guardare la CPU quant'è, se è satura o meno, però non ho problemi. Ma è importante che secondo me, ora, penso che il tuo lavoro voglia andare molto alla sostanza, quindi se va bene, se non si dà impuntamenti. I lag li vedi, cioè, se è un prodotto lag, lo vedi, i processori di ora 855, 730G, sono cose che sulla MIUI non laggano, poi bisogna vedere nel suo specifico caso cosa volesse intendere. Quindi scrivisci anche qualche cosa ancora più approfondita. Ah, e lui mi ha mandato i video della Juve mentre segnava, lui, ecco, l'ho anche condiviso nelle storie, proprio lui. Quindi secondo me parla dell'arbico Pasqua e laggava, ma insomma. Sicuramente gli allagai il cervello. Quanto il tuo lavoro influenza la scelta dei tuoi dispositivi? 100%. Perché se non facessi questo lavoro, penso che un Android da 200 euro mi possa anche bastare, perché alla fine Whatsapp, Facebook, Telegram, un pochino, ma le foto alla fine mi posso anche portare dietro una macchina fotografica. Non sono uno che fa tante foto al di fuori. Io faccio tanti video, ma perché è il lavoro, cioè uso Instagram, mi serve l'iPhone perché ha qualità migliore. E quindi influenza tantissimo, quasi tutto. Perché si elogia tanto Samsung che monta ancora uno scaldabagno al posto del processore? E dovresti sentire quanto prendono, perché non lo so, io, cioè, nelle recensioni Samsung sono sempre stato molto pro su alcune cose, ma molto contro su altre. Beh sì, è vero, dai. E mi fa tanto sorridere quando arrivano nei commenti e mi dicano, ma sei l'unico canale che ha detto questo? Quindi a chi devo credere? A tutto il resto o a te? Ragazzi, non lo so, io che vi devo dire? Io se provo un telefono come Samsung, come l'A51, io nella review ho detto che è uno smartphone che lagga. Eh? Ragazzi, e si vede, cioè si vede proprio a toccarlo. Alcune recensioni hanno detto che il telefono è fluidissimo. E che ti devo dire? Io... Questo è te quello fallato. Sì, sì, ma... O ce l'hanno loro quello fallato. Io ho sempre quello fallato, sempre. Forse l'uno in Italia a dire OnePlus laggava la tastiera. Ah, il tuo è fallato, ne comprai sei, mi sembra di OnePlus 6. E tutti avevano la stessa identica cosa. Cioè, io non so che dirvi. Per me Samsung deve ottimizzare ancora di più l'interfaccia. Il top sarebbe un Samsung stock. Cioè, lì proprio top. E con processore? Snapdragon, ovviamente. Quindi un S10 Lite con Android stock. Perfetto, ma sarebbe il top. E sempre lo stesso Joseph983Na. Ma soprattutto perché un cellulare viene costruito con una cifra e poi viene venduto a tre volte il prezzo di fabbrica? Anche di più, forse, di tre volte. Lì, purtroppo, c'è dietro tutto. Cioè, prendiamo un iPhone. Un iPhone quanto costerebbe? Apple 300 euro? Ma io mi sembrava di ricordare che i vecchi, prima della serie X, mi sembra che ad Apple gli costasse intorno ai 150-180 euro. Può essere. Cos'è che paghi? Paghi il marchio, paghi comunque l'assistenza, paghi tutto l'ecosistema, paghi i servizi, paghi la SIAE, paghi l'importazione, paghi le tasse. Cioè, ragazzi, quando un prodotto è finito, c'è tutto. Sono d'accordo con voi. Cioè, nel senso, vorrei vedere smartphone top a prezzi minori. Però, purtroppo... Beh, dai Xiaomi c'è la partita... Sì, però vedi, anche loro pian piano è arrivata in Italia. Non puoi vendere sotto costo. Cioè, dipendenti li devi pagare. Quando vai al mi store, quei ragazzi devono mangiare, e di conseguenza lo smartphone lo devi vendere un pochino di più. È vero. E loro hanno margini, ti dico, sotto, quasi al prezzo di vendita. Però, quando ti vai all'Apple Store, porti il telefono. Io ho portato un telefono perché avevo un problema al touch. Dopo un anno e mezzo, neanche mi chiede allo scontrino. Vai a fare la spesa, torni tra un'ora. Cioè, ho il display nuovo, montato. Costo zero. Ho pagato un po' di più il telefono. Però ho un servizio dedicato. Io l'ultimo Samsung... No, l'ultimo iPhone che ho avuto era un iPhone 4. E mi ricordo che abbia un problema. Apple mi mandò il corriere a casa. Sì, sì. I detti il telefono. Dopo tre giorni c'è il telefono nuovo. Succede. Quando non c'era l'Apple Store più a Firenze era così. Esatto. OnePlus fa una cosa simile, ti manda il corriere. Quindi, tutto ha un costo, ragazzi. E purtroppo, quando si compra un oggetto, paghi anche questo. Uno se ne rende conto. No, no, è vero. È vero, è vero. Proprio per rimanere in tema, iPhone XR o X? Io direi per me X perché l'AMOLED batte l'IPS, nel mio caso, è perché è un telefono molto più premium al tatto rispetto all'XR. Questa è la mia opinione. Poi, se non ti interessa l'AMOLED e vuoi magari una batteria migliore con un Ford Factor non premium al tatto, allora ti dico, puoi andare anche su XR. Qui c'è una domanda che aspettano in molti. Ai 100.000 iscritti, farei qualcosa di epico per i fan? Allora, 100.000 iscritti, farò qualcosa sicuramente. Epico non lo so. Iniziamo a scrivere nei commenti qualche cosa che potrebbe essere di epico. Ne manca 19.000, quindi ci siamo. Prima o poi ci arrivo. Io ti vengo qua a bussare alla porta. No, ma sicuramente con chi abita in zona qualcosa si farà di sicuro. Avevo in mente, la cosa sarebbe fighissima, un viaggio con gli iscritti, però non riesco a trovare a parte i fondi che servono, perché quello è l'ideale. Cioè, quello è la base anche. Viaggio a Campi-Bisenzio? No, ci vorrebbe un bel viaggio con gli iscritti, ma ti dico, non l'Asia-Cina, a me piacerebbe anche un viaggio in Europa, cioè qualcosa di tranquillo, proprio... Cos'era? Non lo pare di vedere. Va bene anche viaggio a Bologna, per dirti, però serve comunque una base, cioè serve uno sponsor o qualcosa, e ad oggi ti dicono, non c'è. Allora, iniziamo a cercare uno sponsor, noi stessi. Magenzia di viaggi che ci sostiene in un evento così. Qualche pulmino. Quanti pulmini servono per fare 100.000 persone? Ah, pochi, dai. Un paio di camionetti, tutti dentro, stipati. Tutti su Fritzbooks. Fritzbooks. Andiamo tutti su. E siamo come Touchwitz. Sì, sì, Touchwitz. No, Lux. Lux. Samsung S10 Plus, meglio cambiarlo o aspettare un po' per vedere un altro top di gamma? Aspetta un po'. Molto veloce questa. S20? S20, aspettiamo S20, guardiamo un po' e... C'è da aspettarsi qualcosa di buono da S20? Ma, più che altro vorrei vedere intanto lo Snapdragon, e poi guardiamo un po' cosa Samsung ha pensato, anche se ormai i prodotti l'hanno già spoilerato, vediamo i prezzi, però insomma S10 Plus ancora ad oggi è un signor telefono, cioè, ormai aspetterei, ecco. Nonostante ci sia l'S10 Lite che... Sì, però insomma il Plus secondo me ha qualcosa in più, display, succhiato i materiali, display curvo, cioè c'è qualcosa, non si chiama Plus a caso. Certo, giustamente. Non è che Samsung fa le cose così a caso, però il Lite è un bel prodottino. Hanno invaso il mercato dei prodotti, però un po' di logica c'è. Consigli il Redmi K30, nonostante sia la ROM Cina e tutte le varie cose? Ti dico, per la varietà di prodotti oggi ti direi di no, anche perché il Redmi K30 l'ho provato, poi forse quando ha fatto la domanda non sapeva dell'X2 di Pocophone, che alla fine è uguale, arriverà in Europa, quindi ormai aspetta. Qual è stata la cosa più bella che hai provato in questi anni? Oddio mio. Questa è tosta però, eh? Questa è scomoda perché... La cosa più bella... A livello di prodotto penso Motorola Razer, perché vedere quel display si piega e rivivere un po' quello che è stato il passato, è un prodotto top, un prodotto fighissimo, che andrà po' perché alla fine... Fa tornare giovane, eh? Sì, no, poiché capisci, cioè vedi l'evoluzione tecnologica di qualcosa. Io quando l'ho visto, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata... la 50.000 lire, l'uscire con il motorino, far benzina, mangiare tutto la 50.000 lire e avevi il cellulare che... e rispondeva. Sì, 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 ma... Eh, quella è la cosa più figa. Nell'ultimo periodo, poi vabbè, ci sono tante cose belle che nel tempo sono migliorate, vedi le fotocamere, vedi comunque gli smartphone, gli smartwatch, o i monopattini, comunque sia roba impensabile, però ecco quello, secondo me, vedere in quell'oggettino guardatelo da vivo quando esce perché è veramente forte. Ci sarà la coda. Ecco, per i 100.000 iscritti potresti farlo. Regalare a tutti. Ah no, pensa a regalare a tutti un motoroarese. Sì, va bene, dai. Motorola, paga. Forza. Siete pronti a perdere oggi? Sì, Danilo, lasciamo perdere, lo salutiamo, sempre presente sul canale, go bacio anche lui. E questa anche prima della presentazione? Cosa ti aspetti? Poco X2 e Mi 10? In parte Mi 10 l'hanno presentato, Poco X2, era mai si sapeva il K30, quindi un prodotto a me non me ne è piaciuto e quindi di conseguenza aspetto Mi 10. Meglio Xiaomi Redmi Note 8 o P Smart 2019? Note 8T mi sembra. Sì, Note 8T. Direi Note 8T. Note 8T, quindi rimaniamo in casa Xiaomi. Sì, che sulla fascia media di 200, cioè l'ho preso a mia suocera, 160 euro mi sembra. Ragazzi, va a chi glielo tocca. Ah, ci credo. Beh, 160 euro si aprendi. E poi, comunque, dai a qualità si avviene. C'è il display, c'è il noto 8T è strandato. Dato che settimana scorsa ho sbagliato, passaresti ad Android? Non è che ha sbagliato, perché mi ha chiesto se passeresti a Apple, ma come vi ho detto in un'altra domanda, io non riesco a stare senza comunque un Android in tasca, perché mi serve e perché alla fine le recensioni sono su Android, perché l'iPhone è uno, nece uno all'anno, lì c'è la sim di famiglia, mentre la sim di lavoro switcho su Android continuamente, cambio. Infatti, proprio oggi stavo pensando a questa cosa, dimmi te se sbaglio, cioè per noi malati di tecnologia è molto meglio avere l'iPhone che Android, per il semplice fatto che se hai preso il top, più di lì un tu vai, mentre Android è una continua evoluzione. Sì, però ti dico, se sei malato, se vuoi combattere la malattia, sì, il problema è che l'iPhone arrivi il primo mese ed è il top, poi ti annoi, intanto ci siamo passati tutti, ti annoi perché alla fine non puoi fare niente, non puoi cambiare le icone, non puoi metterti lì a fare qualcosa che ti piace e allora nel tempo cambi, però arrivi a un momento in cui, come ci sono io adesso, che ho bisogno di due telefoni, non ho bisogno di un dual sim, perché io ho bisogno di avere proprio due cose separate, certo, lavoro, casa, perché ho perso troppa roba, cioè le foto anche di tuo figliolo, se ti cambi il telefono di continuo, vai tranquillo, però poi in un passaggio le perdi. Aspetta, perché Google Photo non va su iPhone? Va, però ragazzi, io non le metto su Google Photo, oppure le ho messe, però anche lì, alle volte ne ho perse, perché mi sono dimenticato, sei lì, oh allora formato, ti considera che ti cambi il telefono in sei mesi, un anno, ma ti considera una settimana, devi provare tre. Ah, è vero. E quindi ti viene automatico un giorno formati e ti dimenti di fare il backup su Google Photo. È vero. È tassativa la cosa, ci sono passato un milione di volte, ho perso tanta roba, poi aspetta, se passi da Android a iPhone è un casino per il backup WhatsApp, allora mi sono detto, basta, un telefono deve essere quello, e di lì voglio iPhone per via del backup, so che c'è anche su Android, però voglio quel tipo di backup, e voglio quel telefono, perché in ambito lavorativo mi serve, io lo uso tantissimo, tutti i vlog che vedete sul canale, ma anche alcune riprese sono girate con questo telefono, ci sono cose che odio per carità di Dio, però niente, per il mio utilizzo va più che bene. Poi qua c'è uno che dice, dove è finito il Guertz da 4,30 km al chilometro? Ecco, ecco, è lui, è lui, è il suo, la domanda del cacchio che mi ha tirato, perché sì, una volta correvo anche a 4,30 km, adesso vado a 6 km, mi ha sfottuto, quindi... Ma no, è uno sprono, per Dio adesso mi allenerò, mi devo allenare, comunque ragazzi, tornerò anche a correre, solamente lui, ora mi capisce, è un figliolo piccolo, è dura, è veramente dura, sì, purtroppo sì, anche perché uno si deve, dovrebbe essere almeno due, per poter fare tutte le cose che deve fare, no, è dura, infatti considera che il runner, arriva o inizi subito, poi c'è un periodo di stallo, sempre successo, per poi ripartire quando il figlio cresce, manca il 30-40enne, poi dopo c'è, fine ai 30 va bene, poi dopo dal 40 in poi va bene, c'è il pieno, però è vero, perché il figlio cresce 5-6 anni, ecco dopo l'inizio, perché è autonomo, grazie, ma me hai rincuorato, dai, perfetto, quando arriva Android 10 sul Redmi Note 7, allora anche lì non abbiamo news, so che arriva, perché comunque Xiaomi aggiungerà anche il Redmi Note 7, però non ti so dire una data, questo non lo so neanche io, sono finite? eh sì, ragazzi fatemele anche qua sotto nel box dei commenti, settimana prossima, almeno risponderò a tutti voi, senza nessun tipo di problema, vediamo se ci sarà ancora Alfredo, se vorrà ripartecipare, facendo una domanda sensata, stavolta non stronzate, come quella che ha detto, lasciate un like per il vecchio Guertz da 4,30 al chilometro, ok, però questa roba la devi dire subito, perché già ora metà gente non c'è più, no, e quindi vedi, devi imparare il timing di un youtuber serio, devi impararlo, subito, entro il minuto la devi dire queste cose, entro il minuto, certo, questo lo aggiungiamo a un altro video, ok, entro il minuto, perché ricordati, i primi tre minuti sono quelli fondamentali, è vero, la media è quella, no, la media di attenzione è quella, quindi abbiamo parlato anche troppo, vedendo, ciao ragazzi, ciao,